ciao ragazzi oggi sono off screen perché voglio dare priorità a questa guida in cui trasformerò questo dispositivo android auto per moto che avete già visto acquistato in tanti nel video che trovate nelle schede qui in alto a destra da così a così e per farlo iniziamo con lo corrente per questo aggiornamento innanzitutto vi servirà il dispositivo non aggiornato è questa guida lo specifico subito e valida unicamente per questo modello specifico non mi prendo nessuna responsabilità su aggiornamenti effettuati su versioni diverse perché in rete se ne trovano magari su aliexpress se volete acquistare questo modello specifico ed effettuare questo aggiornamento aprite la descrizione video cliccate sul primo link che riporta al mio canale telegram tech best deals cercate aggiornamento android auto moto 2023 e troverete questo dispositivo specifico vi servirà la sua cover con l'alimentazione il suo cavo per connetterlo ad una porta usb tutta roba che trovate comunque nella sua confezione originale io ora ce ne ho due perché ne ho acquistato anche uno per un mio amico dato che se ne è innamorato e ora devo aggiornare anche il suo e vi servirà anche una chiavetta usb da massimo 32 gigabyte di storage mi raccomando non più grandi ve ne lascio qualcuna consigliata sempre nel mio canale telegram tech best deals insieme a tutti gli altri link e ovviamente mi serve anche un pc con sistema operativo windows è una porta usb a libera e tra l'altro ragazzi vi faccio notare che acquistando questo prodotto da amazon come mi è successo due mesi fa anche questa volta mi è arrivato con una confezione non corrispondente al suo contenuto ma poco male l'importante è che ci sia tutto la prima cosa da fare sarà scaricare aggiornamento android auto moto 2023 un file che ho richiesto direttamente ai produttori di questo dispositivo e che vi condivido non potrei farlo ma lo faccio per voi ragazzi perché davvero difficile riuscire a reperirlo comunque una volta aperto il mio link di telegram aggiornamento android auto moto 2023 vi troverete questi file selezionate lì tutti e cliccate su scarica create una cartella io la chiamerò aggiornamento ma non è importante e scarichiamo qui dentro i file pochi kilobyte apriamo la cartella vediamo se c'è tutto perfetto ecco qui file ora prendete la vostra chiavetta usb da massimo 32 gigabyte di storage inseritela nel vostro pc se riesco a trovare la porta eccola qui e andate in il vostro pc selezionate col destro la chiavetta format file system fatto 32 formattazione veloce e avviate ragazzi perdonatemi se il il monitor è lucido non posso farci nulla formatazione completa ora aprite la chiavetta che sarà ovviamente vuota aprite la cartella dei file che avete scaricato tramite il mio link e trasferite tutti i file direttamente nella root nella directory principale della chiavetta in questo modo ecco fatto ora potete andare a rimuovere la chiavetta dal vostro pc è pronta per l'aggiornamento prima di aggiornare però riprendete la scatola originale del del dispositivo perché c'è un un accessorio che ci servirà ora io in teoria ce l'abbiamo tutti in casa però dato che ci viene già fornito in dotazione perché non utilizzarlo eccolo qui si tratta della cacciavitino prendiamo il nostro cacciavitino prendiamo l'android auto per moto e andiamo a svitare queste due vitarelle sul lato sinistro in quanto qui dentro c'è la porta usb per collegare la chiavetta forzata un po e si aprirà in questo modo ora sempre qui dentro troverete anche il cavo otg per collegare la penna usb al dispositivo quindi la parte mini usb la colleghiamo alla porta mini usb da quanto tempo non ne vedevo una del dispositivo e all'altra estremità andiamo a collegare ovviamente la nostra chiavetta usb contenente l'aggiornamento di sistema ora la situazione sarà sostanzialmente questa andiamo a collegare l'alimentazione usb questi lo ripeto sono tutti i cavi che trovate già nella confezione originale nel dispositivo e andiamo ad alimentare il dispositivo con una power bank oppure semplicemente con la porta usb nel nostro pc possiamo farlo anche tenendolo attaccato alla nostra moto mi raccomando non fate scollegare assolutamente la chiavetta ora tappiamo su settings impostazioni sistema update upgrade system aspettiamo qualche secondo in modo che lega la porta usb usb zero e tappiamo su update verrà fuori questa schermata update aspettiamo un minutino ci sono tutte le varie informazioni sulla build la data di rilascio eccetera eccetera mi raccomando non toccate nulla questa è la fase più delicata ok aggiornamento completato ora possiamo andare a scollegare l'alimentazione scollegare il cavo con la chiavetta e ricollegare l'alimentazione ansia perfetto ci siamo ragazzi ecco qui la nuova bellissima interfaccia ed eccolo una volta installato sulla mia moto secondo me fa la sua bella figura l'interfaccia è molto più accattivante e già che ci siete ovviamente verificate che tutto funzioni correttamente se android auto che apple carplay molto molto più reattiva e carina secondo me considerate che si tratta pur sempre di un dispositivo da meno di 200 euro con gps impermeabile pensato per le moto con android auto carplay wireless insomma un bel dispositivo la sua recensione completa arriverà tra un paio di settimane sempre qui sul mio canale youtube quindi se vi interessa non perdetevela vi faccio vedere un'altra chicca ragazzi andando nelle impostazioni factory password 123456 potete andare su impostazioni logo e scegliere 0000 per avere il logo di una casa motociclistica invece con 123456 avrete il logo di una moto mettiamo il logo della mia moto ovvero ktm fatto ora a riavvio dovrei visualizzarlo vediamo ed eccolo qui bellissimo bene ragazzi questo è tutto per questa guida spero vi sia stata utile se lo è stata un bel like per supportarmi commentate chiedendomi quello che volete sia su questo dispositivo sia sulla guida acquistate questo prodotto dai miei link su telegram mi raccomando vi aspetto siete già inoltre che sto facendo 30 mila nella recensione completa tra l'altro vi farò vedere anche come abbinarlo all'interfono con questa con questo aggiornamento è molto molto più semplice grazie a tutti grazie a tutti